A tutte voi volontarie, benvenute al Cartier Latam. Per l'aiuto che ci offrite nella conservazione di questo edificio storico, che andrebbe altresì detto patrimonio culturale, vi ringraziamo davvero. Agli uomini tutti, i lavori pericolosi, sbrigateli di vostra sponte. Sì! Cominciamo! Per carità, almeno quello no! La direttiva è di non fare eccezioni. Perone, fate! Andiamo! E... Forza! 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 Ehi, vedi di fare attenzione! Ma insomma, fate attenzione!